Con Claudio Siciliotti questa sera a Cortina Incontra vogliamo partire intanto da quella che è la manovra e quindi chiediamo a lei che dell'ordine dei commercialisti è il presidente. Quanto si paga? Si paga e chi paga? Beh, si paga abbastanza. Una manovra molto pesante, una manovra di 55 miliardi sul 2014. Questo per effetto delle due manovre, uno e bis, completata da quello di Ferragosto. Chi paga? Pagano, purtroppo paga chi paga già le tasse. Ho la sensazione che continui a pagare il lavoro autonomo, il lavoro di imprese e il lavoro dipendente. Chi non paga ci sono tagli alla politica, ci sono tagli alle pensioni. Forse probabilmente ci voleva più coraggio in entrambe. Chi non paga assolutamente la proprietà immobiliare. Questo è forse una riflessione. Questo contributo di solidarietà sul quale è incentrato l'intera manovra e da un primo punto di vista ha già un nome improprio, perché la solidarietà è volontaria e questo è imposto. Il secondo elemento che mi viene da dire è basato su un presupposto che non è dimostrato. Tutti dicono paga chi ha di più, ma effettivamente chi ha di più è quello che dichiara oltre 90 mila euro o non è semplicemente quello che è già più corretto e ha già pagato prima degli altri. E poi che dire di una manovra che sostanzialmente è retroattiva, perché interviene addirittura sul 2011, cioè su un anno in corso in cui tutti i contribuenti e i cittadini potrebbero aver fatto dei programmi di investimento o di risparmio, che questa manovra incide e viene e incide. Ecco, allora che ci sono tante perplessità e probabilmente bisognerà, e il dibattito è abbastanza ampio, ridiscuterla. Io mi auguro che il soggetto realmente assente, cioè la proprietà immobiliare, sia chiamata a dare il suo contributo. Poi, dopodiché, a livello generale è una manovra più richiesta dai mercati che non richiesta da un progetto paese. Qual è l'idea dell'Italia che noi abbiamo nel 2014? Non lo leggo dalla manovra. Leggo che dobbiamo pagare più tasse, dobbiamo rispettare dei saldi, perché la Banca Centrale Europea ci ha detto che deve essere così. Ma quale idea di paese abbiamo? Che cosa vogliamo agevolare? Molti hanno detto che si è pensato sicuramente a rigore e poco alla crescita. Probabilmente anche questo è un elemento assolutamente mancante. Ecco, qualcuno però potrebbe obiettare o si pagano più tasse o si tagliano i servizi, si taglia la spesa pubblica, si interviene sul welfare, sullo Stato sociale. Pensa che questo sia un equivoco o invece è realmente così, cioè o più tasse o meno Stato, tra virgolette seguendo il paradigma? Credo che siamo arrivati al punto in cui dobbiamo rimeditare complessivamente l'idea di Stato. Vogliamo davvero questo Stato? O vogliamo uno Stato finalmente leggero, non a parole, come tante volte abbiamo detto, ma cominciando a realizzarlo uno Stato che si occupi di difesa, di sicurezza, di istruzione, di giustizia, ma di non molto di più. Tutto il resto può essere appaltato all'esterno, può essere svolto da privati e quindi lo Stato deve consistentemente dimagrire. Guardi, anche forse una delle sconfitte di questi giorni è anche la sconfitta del federalismo, diciamocelo francamente. Perché non tanto di questo federalismo, perché manca nel suo presupposto sfondamentale. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, il vero federalismo è l'inversione dei flussi. Io pago alla mia regione tutto e la mia regione trattiene tutto e versa allo Stato centrale una quota di quello che ritiene necessario per svolgere servizi che non possono essere svolti a livello locale. Questo sarebbe il vero federalismo. Oggi questo non c'è. Lo Stato centrale ancora fa la parte del leone e nel momento in cui taglia, come sta tagliando in questa manovra, gli enti locali, gli impone di alzare le tasse. Quindi questa maggiore autonomia che era la base del federalismo non la stiamo vedendo. Quindi forse una rimeditazione totale. A fonte di questa rimeditazione tutti devono fare i loro sacrifici. Lo devono fare chi lavora il lavoro dipendente perché probabilmente non deve essere come è talvolta assolutamente impermeabile al concetto del merito. Lo deve fare il lavoro autonomo perché deve pagare integralmente il conto delle tasse a questo Paese. Non c'è dubbio senza se e senza ma. Lo deve fare chi non lavora più e che fosse andato in pensione con regimi assolutamente favorevoli e tali che non possono essere mantenuti se non penalizzando i giovani. Oggi abbiamo, sono circa 500-600 mila i soggetti incisi dal contributo di solidarietà ma altrettanti sono i soggetti che sono andati in pensione prima di 50 anni. È irrealistico talvolta prima di 40? È irrealistico chiedere un sacrificio anche a queste persone? Domandiamocelo. Ecco allora forse con un progetto Paese, una rimeditazione dello Stato complessivo quindi con grandi sacrifici alla spesa, tagli di province, tagli di parlamentari. Il problema molte volte l'abbiamo detto non è quanto prendono ma quanti sono i soggetti che prendono soldi e vivono di amministrazione pubblica. Con un grande dimagrimento dello Stato, con un significativo sacrificio del lavoro dipendente, del lavoro autonomo e di chi non lavora più, quello che manca può essere chiesto a chi effettivamente ha di più. E allora mi piacerebbe immaginare un Paese dove si sottoscrivono i titoli di Stato non tanto per i rendimenti che si assicurano, che questi assicurano, ma per i risultati che possono determinare. In una situazione così difficile oggi ci sarebbe bisogno di una riforma che parta così dalle radici del problema e fino adesso questa non c'è. Le faccio una domanda a Lampo sugli ordini professionali. Lei che è presidente di un ordine importante come quello dei commercialisti, le chiedo è davvero giusto ridiscutere anche questa categoria oppure secondo lei è invece una tutela, una garanzia di controllo di qualità tra virgolette del lavoro che viene svolto, l'ordine? Insomma, prima cosa che le dico con voce abusata la ringrazio per la domanda. Questa è una cosa che ci sta qui perché abbiamo la sensazione che con tanti grandi problemi del Paese poi alla fin fine diventiamo noi il capo respiatore di che cosa? Io le parlo dall'alto di 113 mila commercialisti, cinque volte quanti ce ne sono in Francia. Il 40% di noi ha meno di 40 anni. Che cosa dobbiamo liberalizzare? Mi domando. Cioè, dobbiamo liberalizzare creando posti ai disoccupati del futuro. Probabilmente abbiamo bisogno di qualificare i servizi professionali. E allora, io ritengo che questa parte della manovra abbia tracciato una accettabile e giusta riforma delle professioni. Sostanzialmente si dice che tutti gli ordini professionali entro 12 mesi si devono adeguare a questi principi. numero chiuso solo in caso di effettiva pubblica necessità riscontrata come tale, tariffe minime indicative, pubblicità libera, tirocinio retribuito e durante il periodo universitario, laici nei procedimenti disciplinari. A me pare sostanzialmente, anzi quasi tutte queste cose noi le abbiamo, noi commercialisti, ma questo è un merito dei commercialisti, non un demerito della manovra. In buona sostanza credo che ci sia raggiunto un punto di equilibrio corretto e non scambiamo la volontà di liberalizzare un settore con la volontà di occuparlo come un terreno di sbocco di attività imprenditoriali, perché questo non può e non deve essere. I professionisti sono una risorsa del Paese e lo sono se restano, come sono oggi, prima di tutto liberi i professionisti. Grazie, credo stanto una battuta brevissima in conclusione su Cortina Incontra, che quest'anno tra l'altro compie 10 anni. Ma è una manifestazione credo straordinaria, perché ogni giorno personalità della più eterogenea provenienza si incontrano qui per discutere e dibattere. Penso e spero che da manifestazioni come queste nasca anche un sentimento della volontà di un Paese diverso, un Paese nuovo. Tutti lo diciamo, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte in questa direzione. Io mi auguro che anche ci sia, come dire, Giuseppe Derita diceva se metto la testa sulla terra sento i germogli che crescono. Io mi auguro che questi germogli crescano anche qui a Cortina, tra l'altro è così bella, che non potrebbero che crescere in un luogo ideale come questo. Grazie.